benvenuti Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto avete quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegga amici carissimi bentornati ad una nuova puntata del catechismo romano di del concilio di trento è un po che che non ci si che non ci si vede su questa su queste frequenze l'ultima puntata trasmessa in diretta e poi chiaramente caricata come sempre sia come podcast e come video su youtube l'ultima vea come titolo chi non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di dio risale allo scorso 7 di agosto le vicende stive hanno comportato una pausa abbastanza lunga adesso riprenderemo di buona lena si spera continuando a studiarci questo splendido catechismo che peraltro questa ripresa è una dio incidenza perché generalmente queste catechesi vengono fatte il mercoledì mercoledì è il giorno del catechismo ma dal momento che domani sera io avrò un impegno è stato anticipato al martedì e guardate un po oggi è la festa di san roberto bellarmino che san roberto bellarmino è stato uno dei protagonisti della scrittura del catechismo romano nonché peraltro anche a sua volta autore proprio di un suo testo di catechismo molto bello che è proprio l'espressione dottrinale evidentemente in chiave antiruterana antiprotestante fermamente di quanto emerso appunto dalla riforma cattolica in chiave antiruterana operata con il lungo complesso e dottrinalmente ricchissimo concilio di trento ci siamo fermati la volta scorsa come dice il titolo dell'ultima puntata che appunto ricordato per circostanziare per introdurci un po' era la terza parte del della sezione del catechismo dedicata al battesimo che sarà ancora molto lunga questo a far comprendere quanto è importante focale basidare questo sacramento chi non riesce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di dio non può vedere il regno di dio andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura chi crederà sarà battezzato sarà salvo chi non crederà sarà condannato io sto citando parole di nostro signore gesù cristo quindi parole di nostro signore gesù cristo a cui tutti siamo sottomessi a cui tutti dobbiamo prestare attenzione e che dobbiamo tutti prendere molto sul serio perché il sacramento del battesimo è quello che ci trasmette la grazia della giustificazione è quello che ci toglie il peccato originale cioè è come dire la causa prima se vogliamo prioritaria adesso non viene il termine adatto e la passione della morte in croce di gesù è qui qui non è uno scherzo cioè non è un gioco non è optional vabbè se ce l'hai va bene se non ce l'hai va bene lo stesso no non è così i grandi predicatori i grandi evangelizzatori grandi missionari a partire da san paolo presa molto sul serio questa questo questo mandato di gesù è matteo la finale del vangelo di matteo matteo 8 16 20 l'uscita memoria mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate dunque ammaestrate tutte le nazioni battezzando nel nome del padre del figlio del spirito santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo è quindi non è un gioco non è uno scherzo questa sera peraltro si parlerà di un argomento di strettissima e a volte teme drammatica attualità cioè i padrini perché sono necessari i padrini e quali doveri hanno i padrini cioè questo è un tema anche come si trova da un punto di vista pastorale importantissimo perché la scelta dei padrini che aspetta ordinariamente i genitori è una cosa seria importante che non deve essere fatta vabbè a chi faccio far mio padrino al fratello alla sorella allo zio sì va bene purché questi siano in grado di assumersi i doveri del padrino della madrina e stiano anche nelle condizioni soggettive di poter assumere questo ufficio nella in questa materia allora primo la responsabilità principale sta nei genitori perché ad una persona che non è in grado di fare il padrino della madrina non glielo devono chiedere anche se al fratello la sorella lo zio non glielo devono chiedere uno secondo non devono mettere il padrino della madrina in condizione che magari si sentono me l'ha chiesto cioè non potrei ma me l'ha chiesto no non potrei non è che non potrei ma che me l'ha chiesto a me rarissime volte è capitato nella mia esperienza di parro quando mi accorgevo che qualcuno stava proprio dico guarda a quei tempi adesso in dioce è stato è stato tolto ma c'erano i famosi certificati di tonetà di più guarda che tu che te certifico adesso nelle dioce generalmente almeno qui era così si rilasciavano in forma di dichiarazione giurata tu devi condurre una vita conforme all'incarico che assumi che per ammessa che sei credente che sei praticante che vi ringrazia tu puoi dire queste cose ogni tanto guarda che ti assumi una responsabilità davanti all'altissimo non è un giochetto questo qui no un paio di volte a mia memoria forse tre qualche persona che c'ha tutta la mia stima perché onesta e corretta ma mi ha detto no padre io a me questi mi hanno chiesto da padrino io gli ho detto sì che ne sappiamo tutte queste cose che tu mi dici io a sto punto ci devo pensare eventualmente gli dico grazie del pensiero ma io non posso fare questa cosa qui tutta la mia stima terza cosa vengono messi in imbarazzo i parroci d'accordo perché comunque sia poi se tu gli presenti oggi ci sono delle situazioni particolarmente note di persone che vivono in situazioni di oggettiva e pubblica contraddizione con ciò che la fede richiede e poi pretendono andare a fare padrine e madrine e poi mettono i parroci nella antipaticissima condizione di dover dire questi non sarebbero tanto adatti queste cose potrebbero tranquillamente evitare se ci fosse una buona formazione che adesso speriamo con l'ausilio di quello che ascolteremo poter un pochino contribuire ad alimentarla a farla allora numero 175 perché nel battesimo sono necessari padrini prima cosa oltre ai ministri che impartiscono il battesimo di cui abbiamo trattato finora per antichissima prassi della chiesa cattolica è usanza richiedere nella celebrazione del battesimo attenzione un'altra categoria di ministri quindi non sono attaccapannite o personaggi che compaiono no no questi sono ministri quindi hanno una funzione liturgica sono quelli che i teologi chiamavano in altri tempi con parola generica sentite difensori responsabili garanti cioè ciascuno di questi termini è o pesano è difensori l'avvocato difensore di chi del battezzando quindi specialmente quando venivano battezzati gli adulti l'avvocato difensore vuol dire che io mi prendo la responsabilità cioè lo difendo no questo può riceverlo il battesimo stessa cosa del termine garanti garantisco io per lui è degno di ricevere il battesimo non ti preoccupa o responsabile la stessa cosa me la prendo io la responsabilità cominciamo subito a pensare trasliamo questa cosa su un bambino tutti prendi la responsabilità non per il presente come se fosse un adulto di questo la fede c'era ci crede che gesù cristo è dio è disposto a vivere da cristiano quindi battezzalo tu fai da padrino e dici io adesso gliela presto la fede ma poi garantisco quella ce sia garantisco io me la prendo io la responsabilità tanto è vero qui evidentemente quando ho trovato questo catechismo era ancora evidentemente in vigore il rituale vecchio del battesimo più che vecchio io lo chiamerei tradizionale dove a differenza che nel nuovo rito del battesimo i genitori nel battesimo tradizionale non dicono neanche una parola zero ma sapete che è zero neanche una parola parlano soltanto il padrino e la madrina durante il battesimo i genitori ottengono un braccio al ragazzino evidente che partecipano ma non dicono una parola proseguo la lettura difensori responsabili dei garanti che oggi si chiamano padrini i pastori spiegheranno coscienziosamente il loro ufficio trattandosi di funzioni spettanti pressoché a tutti i laici affinché i fedeli comprendano ciò che è necessario per svolgerle bene occorre innanzitutto spiegare le ragioni che industria raggiungeranno nel battesimo ai ministri del sacramento i padrini o compari vedete questa antichissima dizione tipica specialmente di alcune zone del sud compa 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 compano compa in continuazione tali ragioni appariranno decisive a chi ricordi che il battesimo è una rinascita spirituale da cui usciamo figli di dio così ne parla san pietro come neonati desiderate il latte spirituale puro come l'infante e il fanciullo hanno bisogno della nutrice e del pedagogo per svilupparsi educarsi istruirsi con il loro sussidio e la loro opera state attenti così è necessario che i neobattezzati muovendo i primi passi nel sentiero della vita spirituale siano affidati alla fede e alla prudenza di qualcuno da cui attingeranno i precetti della religione cristiana e l'iniziazione alle regole della pietà precetti della religione cristiana e l'iniziazione alle regole della pietà il minimo che devi insegnare almeno a fare preghiere del mattino e della sera almeno cosicché ad agio ad agio crescendo in gesù cristo assurgano la qualità di uomini perfetti con l'aiuto del signore capito chi sono sono tra virgolette i primi catechisti del battezzando infatti ai pastori cui affidata la pubblica cura delle parrocchie non rimane tanto tempo da poter assumere anche quella privata della formazione religiosa dei fanciulli abbiamo in san dieonigi una luminosa testimonianza su questa vitusta consuetudine san dieonigi è una pagita e quindi siamo e gli dice nel d'ecclesiastica hierarchia pensarono i nostri divini condottieri così egli chiamano gli apostoli e ritennero conveniente di provvedere a fanciulli in questa santa maniera che i genitori naturali attenzione li affidassero a persone dotte nelle verità divine come a pedagogia dotte nelle verità divine sotto la loro sorveglianza come sotto gli occhi di un padre spirituale e di un garante dell'eterna salvezza trascorressero il resto della loro vita l'autorità di igino conferma la medesima sentenza scusate di che cosa vogliamo parlare persone dotte nelle verità divine oggi capite no con le condizioni che ci stanno in giro che purtroppo il 60 per cento delle unioni saremo arrivati a questa cifra io quello che si vede in giro i matrimoni sapete che i parroci fanno gli atti dei matrimoni anche evidentemente delle persone che postano la chiesa d'arte che si vanno a sposare da fuori quindi fanno i corsi fuori stanno fuori tu semplicemente fai proprio lo scribacchino nel senso che devi fare l'atto di matrimonio la maggioranza delle persone che oggi si sposano in chiesa sono già conviventi è un problema pastorale questo qui che tutti conoscono che questi pretendono sistematicamente di fare da padrino e da madrina adesso tu dimmi come si può pensare di una persona che vive oggettivamente fuori della volontà di Dio perché nessuno venga a dire che sta nella volontà di Dio chi vive da marito e moglie senza il sacramento del matrimonio perché questo la chiesa non l'ha mai detto né mai concesso né mai permesso né mai insegnato anzi è proibito anche la fornicazione semplice quindi i rapporti prematrimoniali a prescindere dal fatto che tu rendi questo pubblico e manifesto andando a vivere in moro uxorio senza il sacramento del matrimonio tu dimmi come puoi presentarsi come persona dotta nella verità divina e come garante dell'eterna salvezza quando tu agendi in questo modo la metti a repentaglio oggettivamente poi che soggettivamente tu non ti rendi conto di tante cose vabbè questo poi non è soltanto il padre eterno ma io qualche dubbio ce l'ho perché non ti rendi sai stai completamente immerso nella mentalità del mondo che considera queste cose normali questo è un altro discorso questo qui ma dal punto di soggettivo come si fa? doveri dei padrini numero 176 con molta sapienza la santa chiesa stabilì che il vincolo di affinità stringa non solamente colui che battezza il battezzato ma anche il padrino con colui che rileva il fonte battesimale con i suoi genitori fra tutti i costori non sono possibili i matrimoni legittimi se già contratti siano disciolti inoltre i fedeli devono essere istruiti sul compito dei padrini in realtà questa materia nella chiesa è così trascurata già allora che può dirsi non sia rimasto ormai della delicata funzione altro che il nome e gli uomini non sembrano neppure sospettare gli elementi di santità che essa implica ripeto non vorrei poi sembrare pedante o pesante no gli uomini non sembrano neppure sospettare gli elementi di santità che essa implica in linea generale i padrini riflettano assiduamente alla legge strettissima per la quale i figli spirituali sono loro affidati per sempre quindi curino in essi quanto riguarda lo sviluppo della vita cristiana e si rivelino sempre nella vita quali promisero di essere nella cerimonia solenne ascoltiamo San Dionigi nell'atto di esprimere le parole del padrino virgolette di San Dionigi quando questo fanciullo sarà pervenuto alla conoscenza delle sante verità prometto di indurlo con le mie assidue esortazioni a rinunciare a quanto è in conflitto con esse a professare ed eseguire i precetti divini che oggi promette di rispettare vogliamo fare un sondaggio che ne so su youtube o su telegram vediamo un po' quanti che hanno fatto da padrino da madrina qualcuno fanno queste cose o ampliando ancora il suo il sondaggio quanti ne conosci che fanno queste cose e Sant'Agostino sempre virgolette ammonisco innanzitutto voi uomini o donne che teneste i fanciulli al battesimo di ricordarvi che vi siete fatti garanti per loro presso Dio quando li accogliesti garanti presso Dio quindi se quello c'ha qualcosa che non va sapete come funziona un garante se io sono una persona con tre un debito e io mi faccio da garante quindi faccio una fide giussione sapete che succede o un avallo cambiario se c'è stana cambiare quello non paga a chi si vanno a rivolgere secondo voi a chi ha dato la garanzia quello non paga ne paghi tu capite tu vai a fare il garante ah quello non viene da cristiano tu sei garante no che mi dici devi rispondere per lui hai fatto quello che potevi evidentemente quello che potevi perché questo da cristiano ci vivesse oppure no poi non parliamo dei padrini di Cresimo questo però sarà argomento perché anche su questo avremo modo di di tornare guidati dalla sapienza severa del catechismo romano è sommamente ragionevole del resto riprendo la lettura che colui in quale ha assunto un incarico mai si stanchi di adempierlo con diligenza chi si costituì pedagogo e custode di un altro non può tollerare che rimanga abbandonato colui che fu accolto nella propria tutela e padrocinio finché lo sappia è bisognosa di sorveglianza e di appoggio il medesimo sant'agostino sempre parlando dei doveri dei padrini riassume brevemente gli insegnamenti da impartire ai figli spirituali adesso sentite sant'agostino è di Ippone vescovo dottore della chiesa uno dei quattro padri della chiesa latina devono instillare in loro la custodia della castità la prima cosa quindi l'esempio che ho fatto prima devono instillare loro la custodia della castità tu pensa a tutti quelli che si trovano in situazioni irregolari come fanno a instillare nel figlioccio la custodia della castità a Roma si dice io ogni tanto faccio la battutina perché stemperare un po' la mia santa mamma era romana il bue che dice cornuto all'asino si dice così a Roma capite come fai capito no il bue non può dire cornuto all'asino capite no l'amore della giustizia e della carità innanzitutto devono insegnare il simbolo il credo tanto è vero che nel battesimo vetus sordo quando entrano in chiesa dopo i ridi di introduzione alla porta della chiesa cosa fanno i padrini in teoria dovrebbero farlo solo loro recitano il credo il simbolo l'orazione domenicale il padre nostro e il decalogo il decalogo certamente lo esprimono nell'artipice rinuncia a satana non le dicono i dieci comandamenti ma rinuncia a satana a tutte le sue opere tutte le sue seduzioni in altre parole osserverai i dieci comandamenti perché quelle sono le opere di satana e le seduzioni di satana quindi devono insegnare il simbolo l'orazione domenicale e il decalogo in una parola i primi rudimenti della religione cristiana cioè il credo il padre nostro e i dieci comandamenti sono i primi rudimenti della vita cristiana ecco perché le vecchie catechesi nonché uno dei libri più importanti che ho scritto sono sui dieci comandamenti perché anche su questo oggi zero non dico zero assoluto ma anche tra i cosiddetti cattolici praticanti che purtroppo nella categoria dei cattolici praticanti come ho ricordato in qualche unione della scorsa settimana rientrano in larga misura di questi tempi i praticanti non credenti cioè sono cattolici praticanti quindi a messa ci vanno anche abbastanza spesso ma sono praticanti i sacramenti ma non credenti non ci stanno soltanto i credenti non praticanti perché praticano i sacramenti ma non ci credono e i comandamenti sono osservati a macchia di leopardo cioè si fa il pick up a non rubare non uccidere non rubare sì forse non uccidere abbastanza gli altri c'è un c'è un concetto un pochino vago d'etere vabbè a me sarà domenica ci vado però ce ne stanno altri sette chiusa la situazione di Sant'Agostino che tratta dal Sermo 168 eccetera ciò posto non sarà difficile precisare a quale tipo di uomini non sia affatto da confidarsi l'esercizio di questa santa tutela sono quelli che non vogliono adempierlo fedelmente o non sappiano farlo con illuminata assiduità è chiaro che a quei tempi non c'è non c'è non c'è non passavano neanche per l'anticamera del cervello le categorie che ci sono oggi perché per esempio il divorzio nel 1500 nell'Europa diciamo cristiana anche se lacerata dalle dalle riforme protestanti questa cosa non c'era quindi non è che ti può venire in mente di andare a fare da padrino al divorziato risposato le grandi problematiche di oggi però ti dice già chi non vuole adempierlo fedelmente o non sappia farlo quindi non vuole o non è in grado di farlo sono quindi assolutamente da escludere oltre i genitori che non è lecito assumere tale tutela data la distanza che separa la formazione spirituale da quella carnale gli eretici gli ebrei i pagani la cui cura insistente è di annebbiare la verità della fede con il mendacio e sovvertire tutta la religione cristiana i pagani non possono assumere ma attenzione che qui certamente gli eretici sono quelli che hanno deviato dalla retta fede cattolica gli ebrei sono quelli che non ci sono proprio entrati linguaggio dell'epoca i pagani sono quelli che ci sono proprio entrati dentro la chiesa ora però il problema oggi è che il paganesimo è vissuto praticamente da gente che è battezzata che è stata battezzata purtroppo e a un pagano se non di status giuridico perché un battezzato non è qualificabile come un pagano tanto è vero che un battezzato se fanno le seguo in chiesa una persona che non è battezzato cioè che è formalmente un pagano a me è successo pure questo da parroco se muore le seguo in chiesa non si possono fare perché è appunto un pagano proprio in senso stretto il problema è che pagani oggi si può essere di fatto non degli ure e a questi li facciamo fare da padrini e da madrine gente che non sa neanche dove sta di casa io lo raccontavo tante volte lo racconto in forma anonima che una volta stavo per fare un battesimo in una parrocchia X dato che sono state in tre parrocchie a un certo punto ad esempio vengono la sacristia e dice vieni un attimo fuori qua c'è stato uno che fuori bestemmia come un turco dico adesso mi sto vestito ditegli qualcosa voi dopo di che entro in chiesa faccio il battesimo dopo di che la stessa persona viene a dirmi in sacristia dico ma che hai fatto ho fatto il battesimo ma che te sei impazzito dico perché perché guarda che quello che bestemmia come un turco è padrino quello bestemmia come un turco davanti alla chiesa immaginate mesi che uscivo sarei andato a finire sul giornale oppure con il conflitto a che faccio voi capite oggi che significa fare il parrocco cioè o stai zitto perché se no fai cinematografo oppure parli e far finire sul giornale chiaro questo qui no cento per cento se va bene sullo giornale devo ringraziare Dio che 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 in quel momento perché se tu non lo sai non sei oralmente responsabile almeno però capite la responsabilità dei genitori che hanno fatto quella cosa che hanno scelto quella persona e di quello che ha accettato che ti metti a bestemmiare davanti alla chiesa prima che faccia il ritore del battesimo cioè capite che quando parli sono vent'anni che sto facendo sto lavoro, io ho fatto solo questo, io ho fatto solo il viceparroco e il parroco, basta non ho fatto altro, i primi anni di ministero, quando c'era Monsignor Petrocchi, ho insegnato teologia nella scuola di scienze religiose di Latina che poi è stata chiusa, quando è stata la riforma e ero anche con la cooperatore e collaboratore per qualche anno dell'ufficio scuola, quello preposto agli insegnati di religione cattolica, fine della mia carriera, finito non ho fatto altro, quindi con queste cose sono stato sempre in contatto e ne ho viste come si dice a Milano, di ogni, proprio di ogni viste e sentite di ogni quindi il concilio di Trento ha stabilito che non più di un padrino assiste al fonte il battezzato, uomo o donna, o al massimo un uomo o una donna primo per non turbare con la pluralità dei maestri l'ordine dell'iniziazione e dell'istruzione in secondo luogo per impedire che una troppo complessa rete di affinità produca un arresto delle legittimazioni matrimonali tra gli uomini necessità del battesimo anche per i bambini numero 177 quindi il discorso sui padrini è esaurito adesso penso che possiamo fare questo altro paragrafo e poi per non presentire troppo ci fermiamo la conoscenza di tutte queste verità è senza dubbio utilissima ai fedeli ma nessun insegnamento è più necessario di questo che la legge del battesimo attenzione è prescritta dal Signore per tutti gli uomini i quali scusate rileggo perché ho saltato un libro la legge del battesimo è prescritta l'azione per tutti gli uomini i quali se non rinascono a Dio con la grazia del battesimo sono procreati dai loro genitori siano questi fedeli o no per la miseria e la morte eterna sto leggendo eh molto spesso i pastori dovranno commentare la sentenza evangelica sta scritto l'ha detta nostro Signore Gesù Cristo non l'ha detta a Pinco Pallino chi non rinascerà per acqua e Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio l'universale e autorevole sentenza dei padri dimostra che questa legge va applicata non solo agli adulti ma anche ai fanciulli e che la Chiesa ha ricevuto una simile interpretazione dalla tradizione apostolica per cui non può cambiare l'interpretazione di questo di questo logion di Gesù come si potrebbe credere del resto che Gesù Cristo abbia voluto negare il sacramento e la grazia del battesimo a quei bambini di cui disse un giorno lasciate che i bambini vengano a me perché di questi è il Regno dei Cieli e che abbracciava Benedito e accarezzava inoltre quando leggiamo che Paolo battezzò l'intera famiglia primo Corinzi 1.16 atti 16.33 appare chiaro che anche i fanciulli di quella furono bagnati al fonte della salvezza inoltre la circoncisione dell'Antico Testamento simbolo del battesimo quante volte l'ho detto in tantissime catechesi ma questo lo dice Santo Maso però qui non lo dico io il battesimo è nel Nuovo Testamento ciò che attraverso questo segno veniva prefigurato nell'Antico Testamento peraltro la circoncisione sappiamo bene che cos'è se la circoncisione è connessa al battesimo perché ne è simbolo ok ai simboli fatti da Domini Dio non sono simboli fatti a casaccio perché dice ma che rapporto ci può avere la circoncisione dove tu vai a fare un taglio doloroso peraltro sul membro maschile col battesimo quale sarebbe il nesso tu sei la Pasqua ebraica con la Pasqua cristiana lì c'era l'agnello che veniva ucciso e dovevi tingere di sangue gli stipiti c'è Gesù che è il vero agnello che il sangue l'ha versato e chi è bagnato col suo sangue c'ha la salvezza quindi c'è un nesso no? ma qual è il nesso tra la circoncisione e il battesimo? ho parlato nel ciclo di Catechesi dedicato al peccato originale perché questo nesso è una spia che consente di poter leggere l'ipotesi circa la natura del peccato originale così come è stata proposta da numerosi padri della Chiesa in un certo senso che ha a che fare con il taglio fatto al membro maschile proseguo la lettura è noto infatti che i fanciulli sollevano essere circoncisi nell'ottavo giorno dalla nascita la circoncisione è l'ottavo giorno anticamente l'ottava di Natale era la festa della circoncisione di Gesù il primo gennaio ottava di Natale circoncisione di Gesù otto giorni dopo lo portarono per la circoncisione l'angelo di Luca primo sangue versato dal Signore per la nostra salvezza peraltro e non in maniera inconsapevole ma cosciente perché Gesù bambino c'era l'uso del libero arbitrio quindi gli ha sofferto nella circoncisione noi no ma lui sì nessun dubbio che se la materiale circoncisione con l'eliminazione di un elemento corporeo giova ai bambini ai medesimi dovrà lecare il battesimo che è la circoncisione di Gesù Cristo non operata da mano di uomo circoncidete il vostro cuore non le vostre membra infine se è vero come proclama l'apostolo che la morte è estesa il suo regno a causa della colpa di un solo inimigo non dimentichiamolo questo qui è Romani 5 il peccato originale non è un optional la dottrina sul peccato originale è il fondamento della nostra fede cattolica è uno non fondamento assoluto ma uno dei fondamenti perché se non c'è il peccato originale e se la morte non è entrata nel mondo a causa di uno solo quello che ha operato il nostro signore Gesù Cristo e anche quindi quello che bisogna fare in conseguenza della redenzione operata da Gesù Cristo perde la ragione di essere se è vero come proclama l'apostolo che la morte è estesa il suo regno a causa della colpa di un solo individuo ha più forte ragione coloro che ricevono l'abbondanza della grazia dei doni e della giustizia devono regnare nella vita per opera di uno solo Gesù Cristo questa è la dottrina di San Paolo capitolo 5 della lettera di Romani orbene poiché a causa del peccato di Damo i bambini contraggono la colpa originale a più forte ragione per i meriti di nostro signore Gesù Cristo potranno essi conseguire la grazia e la giustizia per regnare nella vita cosa però impossibile senza il battesimo impossibile non difficile impossibile perché Gesù ha detto chi non rinasce da acqua e da spirito non è che difficilmente entra nel regno dei cieli quello ha detto di un ricco difficilmente coloro che hanno ricchezza entrano nel regno dei cieli difficilmente ma chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio non può entrare nel regno di Dio non può a più forte ragione per i meriti di nostro signore Gesù Cristo potranno essi conseguire la grazia e la giustizia per regnare nella vita cosa però impossibile ripeto senza il battesimo perciò i pastori insegneranno che i bambini devono assolutamente essere battezzati e vedremo anche molto presto non quando è ora che piano moglie tra poco poi ad agio ad agio la puerizia dovrà essere educata alla vera pietà inculcandole i precetti della religione cristiana poiché disse il sabio proverbi 22 6 quando l'adolescente abbia preso la sua via non se ne allontanerà più neppure da vecchio l'educazione dei bambini qui attenzione genitori è basilare una piantina tutti lo sappiamo fino a quando è piccina è neonata c'è ancora come dire i rami teneri se ti accresce storta la leghi la drizzi ma se una quercia è cresciuta storta una volta che è diventata la quercia prova a drizzarla se sei capace dopo prova ad agio ad agio ma la puerizia deve essere educata voi pensate quali padrini che girano oggi io parlo sempre da parroco i ragazzini arrivano al catechismo non sanno fare nemmeno il segno della croce non uno la maggioranza e adesso sto in una parrocchia dove ho quattro gatti ragazzini ma quando non erano quattro gatti era la stessa cosa praticamente zero ditemi voi come è possibile poi evitare che da giovani facciano un sacco di stupidaggi e anche qui quanti dolori di sacerdote sentiti quando sapevo certi fini che facevano alcuni ragazzi che in qualche modo avevo conosciuto che erano stati a catechismo in parrocchia eccetera e non è lecito porre in dubbio che i bambini battezzati ricevano realmente i sacramenti della fede se ancora non credono con adesione positiva del loro intelletto si fanno forti però della fede dei genitori se questi sono credenti se non lo sono supplisce per usare le parole di Sant'Agostino la fede della Chiesa ossia della società universale dei Santi in verità possiamo dire che si sono offerti al battesimo da tutti coloro che bravano di offrirgli per la carità dei quali entrano a far parte della comunione dello Spirito Santo sulla base di questo anche questo mi è successo pastoralmente parlando voi sapete che due non credenti possono chiedere il battesimo del figlio lo sapevate perché il ruolo dei genitori per un bambino è solo portarli a ricevere il battesimo perché avendo l'autorità ordinariamente dico ordinariamente non si può battezzare un bambino senza il consenso dei genitori a me è successo mi ricordo che credo anche che mai il vescovo perché non dico mo che faccio questi mi chiesero noi non siamo credenti però vogliamo che il nostro figlio riceva il battesimo faccia catechismo faccia prima comunione faccia cresima e che la sua educazione sia affidata alla Chiesa cattolica uno era una era non credente credo un altro era musulmano o musulmana adesso mi ricordo non praticante ci stanno pure là i non praticanti ecco a quanto pare certo che li batteggi evidentemente lì il padrino deve essere ancora più attento ovviamente oggi a che possa veramente dare una garanzia si può perché è un sacramento indispensabile per la salvezza e se non hanno la fede dei genitori supplisce la fede della Chiesa occorre esortare costantemente i fedeli perché portino i loro figli non appena possono farlo senza pericolo alla Chiesa e li facciano battezzare con la solenne cerimonia si pensi che ai piccoli non è lasciata alcuna possibilità di guadagnare la salvezza se non è loro in partito il battesimo guardate come parlava la voce della Chiesa un tempo dopo quanto grave dunque la colpa di coloro che li lasciano privi di questa grazia è più del necessario grave colpa oh non lo sto dicendo io eh lo sto perché ho iniziato di specificare lo sto dicendo il catechismo romano del concilio di Trento io sto leggendo il numero 177 qui dice che è grave colpa lo dice lui eh io ripeto quanto grave dunque la colpa di coloro che li lasciano privi di questa grazia è più del necessario più del necessario qual è il necessario appena li puoi portare in chiesa senza pericolo a quei tempi non c'erano gli ospedali gli ostedi tutte queste cose il bici si imbrogli un sacco di ragazzini morivano le parto quindi ma appena si può subito quanto dunque grave è la colpa di coloro che li lasciano privi di questa grazia più del necessario mentre la debolezza dell'età li espone a innumerevoli pericoli di morte allora evidentemente molto più di oggi bene amici con questo penso che possiamo fermarci la prossima volta ci riprenderemo con una parentesi riguardante il battesimo degli adulti e poi ho la bellissima sezione delle disposizioni per il battesimo daudentur Jesus et Maria